Ciao, io sono Jessica e questo è un nuovo video della rubrica Googly News in collaborazione con C2 Group che è il partner numero uno di Google for Education per l'Italia. In ogni episodio scopriamo insieme una funzione o una novità degli strumenti della G Suite. Oggi vediamo all'interno di un foglio Google, quindi un Google Sheet, come è possibile facilitare la visualizzazione dei diversi dati. In questo caso ho inserito alcuni dati finti per avere un esempio sotto mano. Vediamo in alto che nella prima riga c'è l'intestazione delle diverse colonne. La prima colonna è dedicata ai nomi dei nostri studenti, la seconda, la terza, la quarta e la quinta ai diversi voti che sono stati presi dai nostri studenti nelle verifiche. Vi sarà capitato diverse volte di avere una tabella come questa piena di dati e ogni volta che andiamo a scorrere in alto e in basso perdiamo di vista l'intestazione delle colonne, quindi la prima riga. La stessa cosa succede invece se scorriamo verso destra perché perdiamo l'intestazione delle righe, quindi la prima colonna. Nel nostro caso non vediamo più i nomi e andando in alto e in basso non vediamo più a quale verifica si riferiscono i diversi voti. Per bloccare righe e colonne che rimangano sempre in primo piano andiamo ad utilizzare una funzione particolare che troviamo all'interno di Fogli Google. Innanzitutto io voglio bloccare sia l'intestazione delle colonne che l'intestazione delle righe. Quindi mi posiziono sull'incrocio di righe e colonne, nel mio caso nella cella A1, poi dal menu seleziono Visualizza, Blocca, fino alla riga attuale ed ecco qui che è stata bloccata la prima riga, quindi se vado giù con il mio foglio continuo a vedere l'intestazione delle colonne e ritorno poi su Visualizza, Blocca, fino alla colonna attuale. Ed ecco qui che anche la prima colonna è stata bloccata, quindi se io vado a destra e a sinistra ho sempre il nome dei ragazzi in primo piano e posso avvicinare anche l'ultima colonna con i dati per vedere a quale ragazzo si riferisce quel voto. Questa era la funzione di G Suite di oggi. Se vuoi conoscere altre novità puoi guardare gli altri video della rubrica Google News e se vuoi scoprire come applicarle nella tua scuola puoi contattare Alessandro De Bono che è responsabile Google for Education di C2 Group. Trovi i link diretti qui nella schermata o sotto nella descrizione. Ti aspetto lunedì con altre Google News.